Ciao, sono Fulvio Calderoni, sono un attore della cantera management. Sono alto 1,78 m, ho 57 anni e sono di Soverato, in provincia di Catanzaro. Anche la mia mamma era calabrese, ma per 12 anni ha vissuto a Milano e mi diceva sempre Cosa lei è Milano? Milano l'entro anche qua. Cioè lei spiegava Milano così. Mia papà invece era il quinto di dieci fratelli, per cui diversi di loro se ne sono andati in giro per l'Italia. Alcuni in Piemonte, dove l'azienda Dentina diceva sempre Oh Franco, fumo un po' a lei, no? Nessuno è andato a Bologna. Peccato perché a Bologna i tortellini sono una cosa meravigliosa. Ma non c'è mica bisogno di nascere a Bologna per sapere che i tortellini sono buoni. E io stesso non sono rimasto a Soverato, sono venuto a Roma. Perché a Roma c'è sta il cinema. Il cinema è bello perché lo fa e poi lo rivedi. E quindi se vuoi far cinema devi venire a Roma. C'è poco da fare. E perché poi ha Soverato, che è in provincia di Catanzaro, non si parla proprio come a Catanzaro, perché c'è una certa cadenza. Ma Catanzaro, per dire se lo vuoi fare lo fai, se non lo vuoi fare non lo fare, si dice E insomma, se vi serve qualcuno che abbia dimestichezza con i dialetti, ma che parli pure italiano, corretto e chiaro, Fulvio Calderoni, la Cantena Management. Ciao.